Lo racconto, il senatore Fravezzi, la riformulazione, l'appoglio. In prima lettura alla Camera questa notte è stata modificata e quindi ora vi avete mandato in una crasi minimo di cari di spiagli e far chiudere veramente le imprese. Tanto in un punto di 360 milioni, quindi noi chiediamo, e lo chiedono le imprese di avere certezze che il governo si impegni a predisporre. E' un trario di chiedere, grazie, grazie, grazie. Con questo, l'equilibrio precedente sia stato rigettato dal Consiglio Comunale o in una fase successiva del procedimento della Corte dei Conti. Questa norma dalle conseguenze su di sé del dissesto stesso. Grazie. Grazie signor Campanella, signor Giacomaroli. Grazie a tutti. Non approva, 3.12, di cui votiamo la prima parte per la votazione, parere contrario. Votazione, non approva, 30 parere contrari per la votazione. Grazie. 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 Grazie.